Sono Juan Carlos De Martin e sono uno degli organizzatori dell'Internet Governance Forum Italia. Qui di fianco a me ci sono altre tre persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento che si terrà a Torino da giovedì a sabato. Il mio compito è di introdurre e di spiegarvi rapidamente di cosa si tratta, cosa significa Internet Governance Forum, un minimo di storia, visto che ormai ci sono diversi anni di storia sia a livello internazionale che a livello nazionale, e poi soprattutto il programma, che cosa ci aspetta, vi aspetta da giovedì a sabato qua a Torino. Due parole di background. Internet nei decenni scorsi si è strutturata dandosi una propria struttura di governance, diciamo abbastanza dal basso, nel senso che la comunità che ha creato Internet, in dialogo col governo che ne ha favorito e ne ha reso possibile la realizzazione, cioè il governo americano, ha creato una struttura di governance abbastanza articolata e a vedere dei risultati abbastanza efficace. Gli organismi sono diversi, Internet Society, ICANN, IAD, IETF e altri acronimi bizzari di questo tipo, ma la realtà è che è una struttura di governance che ha svolto fino a questo momento, non in maniera perfetta, ma in maniera decisamente adeguata al suo compito. Alcuni anni fa, numerosi paesi, tendenzialmente non occidentali ma non solo, hanno posto la questione della struttura di governance di Internet nel momento in cui questa infrastruttura da progetto di ricerca nordamericano è diventata un'infrastruttura cruciale a livello internazionale, quindi incluso anche per paesi molto lontani, per cultura o per tradizioni politiche rispetto agli Stati Uniti o all'Europa occidentale. Questi paesi chiaramente fanno riferimento come tavolo multigovernativo alle Nazioni Unite e quindi hanno portato alle Nazioni Unite la loro esigenza di una struttura di governance, chiamiamola più tradizionale, più multigovernativa, come appunto le Nazioni Unite. Da questa loro spinta ufficiale, l'allora segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha reagito proponendo di parlarne, come è normale che capiti in quel tipo di forum, e quindi si è tenuto e iniziato il processo chiamato World Summit on Information Society. Di questo World Summit on Information Society forse alcuni di voi ricorderanno l'edizione del 2005 che si tenne a Tunisi, con una delegazione italiana piuttosto nutrita, e quel World Summit on Information Society fu considerato, oltre che molto frequentato, un successo di un nuovo approccio alle questioni multigovernative, c'è un approccio, usando una parola che nel frattempo è diventata usurata, multi-stakeholder, che significa tutti hanno diritto di parola, non soltanto le delegazioni ufficiali dei governi. Quindi a Tunisi andarono organizzazioni della società civile, individui, ovviamente anche governi, non soltanto le delegazioni ufficiali. Questo approccio multi-stakeholder, che dava voce quindi non soltanto alle posizioni ministeriali, ma anche alla voce degli utenti, alle voce delle principali aziende, quindi a tutti quelli che portavano e portano un interesse in Internet, piacque, e quindi il Kofi Annan propose di istituzionalizzare, almeno per un primo quinquennio, qualcosa di analogo ogni anno, cioè un incontro di tre giorni, tenuto in diverse parti del mondo, dove appunto in questa modalità multi-stakeholder, chiunque potesse partecipare, proporre un tema, discutere, di che cosa? Di tutti i grandi temi di Internet, dalla struttura di governo in senso stretto, appunto la cosiddetta governance, ma anche i temi di Internet, sia le potenzialità ancora inespresse, sia i problemi che Internet, come tutte le cose umane, porta. Quindi è nata la sequenza degli Internet Governance Forum internazionali, o anche chiamati globali, che da Rio de Janeiro, Atene, India, Egitto, e fino alla scorsa edizione in Lituania, a Vilnius, appunto, ha offerto un'occasione all'anno per discutere di questi temi. Quest'anno si terrà in Azerbaijan, a Baku, dal 6 al 9 di novembre, perché nel frattempo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconfermato per altri cinque anni questo forum ufficiale, appunto l'Internet Governance Forum. Questo per quello che riguarda il livello internazionale, quindi noi stiamo guardando a, tra circa tre settimane, l'IGF globale, che è in preparazione ormai dall'inizio di quest'anno. In parallelo, a livello nazionale, e in alcuni casi a livello macro-regionale, per esempio a livello europeo, si è iniziato, sempre con una modalità molto basata sulla società civile, sui portatori di interessi, e sul volontariato anche, a fare degli incontri, ovviamente più piccoli, chiamati sempre l'IGF, sempre l'Internet Governance Forum, che cercavano di focalizzarsi su, almeno alcuni dei tempi principali, su una scala più piccola, appunto quella nazionale. L'Italia è stata uno dei primi paesi a organizzare degli IGF, e la prima edizione si tenne nel 2008 in Sardegna, con la forte sponsorship dell'allora presidente Soru, e successivamente un gruppo, chiamiamolo di volenterosi della società civile, tra cui il Centro Nexa che codirigo, ma il CNR di Pisa, la provincia di Roma, successivamente la provincia autonoma di Trento, hanno organizzato edizioni successive, tipicamente strutturate come uno o due giorni di discussioni sui temi caldi di Internet. Si sono tenute quindi le edizioni del 2009 a Pisa, il CNR, nel 2010 a Roma, con la provincia di Roma, nel 2011 a Trento, organizzato dalla provincia autonoma e della fondazione Aref, e a questo punto toccava a noi torinesi, che non potevamo più esimerci da organizzare un IGF italiano. Siamo dunque qui, e l'obiettivo adesso delle persone che siedono al mio fianco sarà quello di raccontarvi più in dettaglio cosa c'è in questo programma che già trovate online, all'indirizzo 2012.igf-italia.it, un programma molto ricco, io vi darò soltanto alcune macroindicazioni, poi lascio alle persone di fianco di approfondire. Vi dico che innanzitutto è strutturato su tre giorni, il primo giorno è una sessione chiamata di Unconference, che è un modo cool per dire una giornata dove sono a disposizione degli spazi e chiunque può organizzare incontri, bar camp ed altro, e c'è un programma già abbastanza nutrito per giovedì 18 ottobre, e poi due sessioni più tradizionali di venerdì 19 e di sabato 20 ottobre, dove si seguiranno delle sessioni plenarie all'inizio e alla fine e due sessioni poi parallele, il pomeriggio di venerdì e il mattino di sabato. Alcune indicazioni soprattutto sulle plenarie, oltre agli coorganizzatori locali, quindi la regione, il sindaco e altre entità che trovate sul programma, è importante citare la presenza, una forte presenza governativa che ci fa piacere non soltanto perché è il nostro governo, ma anche perché appunto a Baku ci sarà anche una presenza del governo italiano, quindi che il governo italiano sia presente a discutere su scala nazionale prima di partecipare a Baku, che ci fa particolarmente piacere. Il ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata manderà un videomessaggio che ha tutti i valori anche formali di un discorso su questi temi, questo la mattina di venerdì, un keynote address di Stefano Rodotà che ha seguito questo percorso sia a livello internazionale che a livello nazionale, un videomessaggio di Vinsurf, uno dei cosiddetti padri di internet, poi diverse sessioni di cui un moderatore è presente qui su questi divanetti e in conclusione la sessione del sabato pomeriggio dove avremo, oltre a assessore allo sviluppo economico ricerca e innovazione della regione Piemonte, il sottosegretario allo sviluppo economico Massimo Vari, un assistente direttore generale dell'UNESCO e in conclusione il ministro di istruzione e università di ricerca Francesco Profumo. Ma direi che non ho parlato anche troppo, lascio volentieri la parola per cominciare a Andrea Casaregno, scusate a Giorcelli che è il direttore del D-Topics che tra l'altro ci sta anche ospitando in questa sede da cui trasmettiamo questa conferenza stampa, prego a te la parola. Buongiorno, per noi è un grande onore contribuire e partecipare a questo forum, Topics dal 2006 ha avviato un programma denominato Development Programme che aveva e ha tuttora l'obiettivo di supportare lo sviluppo e l'innovazione di Internet sul territorio. Questo programma è sostenuto principalmente dalla pubblica amministrazione ma anche da grandi player privati che operano nel settore privato e cosa mette a disposizione questo programma? mette a disposizione di tutti i soggetti che hanno proposte progetti di innovazione nel settore Internet un supporto da un lato infrastrutturale, tecnologico, cioè tutte le infrastrutture necessarie a testare e portare fino alle prime valutazioni sul campo le proprie proposte e un supporto anche tecnico, cioè un team di esperti nel settore che affianca i progetti di innovazione e dà assistenza su tutti gli aspetti non coperti dai proponenti dell'innovazione. nel corso di questi sei anni Topics con questo programma ha ospitato più di 250 progetti di innovazione attualmente circa 200 di questi progetti sono live sulla infrastruttura di Topics e mediamente ogni anno abbiamo circa 50 progetti nuovi e una cinquantina di progetti che alcuni di questi per nostra fortuna riescono a decollare e quindi diventare business e altri che invece purtroppo non riescono a superare l'asticella del mercato. Dato questo programma che quindi ha sei anni di vita, Internet Governance Forum organizzato in Italia e soprattutto a Torino diventa una forte sinergia con questo nostro settore, questa nostra attività in particolare per buona parte dei temi che sono oggetto di questo forum direi che senz'altro Digital Device, l'agenda digitale sono indubbiamente dei temi su cui anche un po' la parte infrastrutturale, temi su cui i nostri progetti hanno portato e stanno portando dei contributi di innovazione. E quindi con soddisfazione che noi partecipiamo a questa conferenza. Roberto Moriondo, direttore innovazione, ricerca e molte altre deleghe, come vede la regione Piemonte di IGF? La regione Piemonte ha fortemente voluto IGF a Torino. Un anno fa io ero trento e in un momento conviviale abbiamo deciso tutti quanti che era ora, che eravamo pronti per ospitare questo evento. Un evento che per me per prima cosa raccoglie in un posto fisico delle persone che quotidianamente si frequentano sulla rete grazie a internet. Noi siamo un pochettino come dei neuroni che sono collegati da delle sinapsi che hanno un cervello. Ogni tanto, e questo lo possiamo fare quotidianamente grazie a internet, ogni tanto ritrovarci dando anche contatto fisico conviviale alla nostra frequentazione quotidiana ci permette di scrivere insieme quelli che sono gli elementi di le agende future. Abbiamo partecipato come regioni, ma come sistema anche di persone alla stesura dell'agenda digitale del governo italiano. Finalmente l'Italia si è data formalmente uno strumento che ha anche elementi di coerenza con quanto accade in Europa e nel mondo. Adesso bisogna declinare questa agenda che, come è ovvio che sia, definisce priorità e declina sull'asse dei tempi quelli che sono i progetti da realizzare. Dobbiamo dare concretezza a questa agenda, per cui secondo me uno degli elementi su cui potremo concentrarci in queste tre giorni è proprio passare da una fase di appunti, priorità e calendario a azioni concrete che ne seguiranno, perché poi alla fine i protagonisti della realizzazione saremo noi, per cui una grandissima responsabilità. È ovvio che parlare di internet vuole dire, secondo me, segnare diversi ambiti della vita delle persone e della società. Internet è un incredibile strumento di comunicazione, ma anche un imprescindibile strumento di democrazia. Grazie a internet è cresciuta la consapevolezza dei cittadini di come potessero guardare, io che sono un funzionario pubblico, guardare all'interno della pubblica amministrazione, renderla più trasparente, renderla accessibile, controllare, ma meglio. Grazie a internet i diritti umani, i diritti delle persone vengono meglio tutelati, perché le informazioni circolano anche in quei paesi del mondo che più provano a fare resistenza alla circolazione dell'informazione. E poi internet è uno strumento di incredibile valore per lo sviluppo economico, di una nuova economia che sia diversa da quella attuale, che ha dimostrato i segni del tempo e è stata entrata in crisi. Per esempio alle imprese in questi giorni mi piacerebbe sottolineare come, al tempo alle imprese dell'ICT, come devono guardare al mercato sulla rete, non al mercato di prossimità, a quello della distribuzione locale, perché il mondo sta andando in quella direzione. Qualche anno fa insieme a molte persone che saranno presenti lì e insieme a tutti quelli che stanno su questi divani, in questo salottino, abbiamo pensato a portare in Piemonte un modello di software as a service che vedevamo tratteggiato in altre parti del mondo, proprio per dare la società alle imprese di prepararsi. Per cui accanto all'elemento discussione sull'agenda digitale del nostro Paese e delle agende digitali del mondo e di come dare attuazione a queste, secondo me bisogna riprendere ancora con molta forza il tema della disponibilità dei dati pubblici. L'open data e l'open government sono termini che non devono apparire modaioli, ma devono essere un segno concreto e tangibile di come vengono liberate informazioni, dati che possono essere trasformati in conoscenza, in servizi che possono dare trasparenza. Per cui ancora una volta i due grandi filoni dell'open data dovranno essere discussi per provare a dare omogeneità a livello anche nazionale alle politiche che alcuni enti più lungi di altri hanno fatto. Per cui da una parte il valore economico del dato pubblico che può essere utilizzato per generare servizi e per cui anche occupazione, valore, reddito. Dall'altro se pensiamo a un momento di nuova crisi del sistema politico per comportamenti a volte illegali, a volte magari soltanto poco etici, capiamo l'importanza anche come deterrente di poter disporre delle informazioni di cosa accade nei palazzi. Per cui un elemento di trasparenza che da una parte consente di avere il controllo di cosa accade e dall'altro sarebbe anche un po' come deterrente perché chi opera sa di essere visibile quando opera nel palazzo. Io non amo il controllo di proprio ieristico sul comportamento dei politici o dei funzionari pubblici ma nel lato delle loro attività professionali è bene che sappiano di essere costantemente controllati. E poi secondo me occorrerà dare ancora più forza con il successo di queste altre giorni all'evento dell'anno prossimo perché è quello che deve essere garantito che ovunque si tenga al prossimo anno ci sia ancora un crescente interesse e ancora un maggior impegno per fare il punto sulle cose che abbiamo promesso di fare e sulle prospettive future. Benissimo, tu hai citato molti dei temi e tanto vale a questo punto citare i nomi delle sessioni così chi ci ascolta può avere un'idea anche se ovviamente il programma è già online perché le sessioni che si aprono alle ore 14 di venerdì si intitolano Il Paese del Digital Divide, moderato da Sergio Duretti che sarà il prossimo speaker, abbiamo una sessione Quali infrastruttura per la rete di domani, moderata da Angelo Raffaele Meo del Politecnico, Internet Imprenditorialità che si ricollega anche al discorso che abbiamo sentito, moderato da Luca De Biasa, Neutralità della rete, moderato da Stefano Quinterelli, poi abbiamo sabato mattina i government, modelli e strumenti, moderato da Fabio Chiusi, coordinare le agende digitali e torniamo appunto a uno dei temi che trattava Roberto Moriondo che sarà il moderatore, Open Data, altro tema, moderatore Federico Morando del Centro NEX e infine strumenti per colmare il Digital Divide, moderatore Simone Arcagni di Nova 24 dell'Università di Palermo. Sergio Duretto, direttore CSP. Io non voglio aggiungere altre considerazioni a quelle già svolte che credo raccolgano molto bene il senso e lo spirito del GF Italia, noi siamo stati sin dall'inizio entusiasti di poter partecipare all'organizzazione del GF Italia perché come veniva già sottolineato fare a Torino il più importante evento dedicato alla governance di Internet significa anche ricordarci e avere consapevolezza di quanto Internet sia nel DNA di questa città e di tante delle strutture che quotidianamente operano in questa città. Giustamente Silvano ricordava quanto sia importante il lavoro di Topics per lo sviluppo di Internet, io come direttore del CSP, anche se allora il CSP si chiamava Centro Supercalcolo Piemonte, non posso non ricordare che il primo porting su Internet del televideo lo fece proprio il CSP nel 1995, stiamo parlando di 17 anni fa e sembra preistoria, ma questo solo per dire di quanto Internet dai nostri diversi punti di vista, a chi come CSP un organismo di ricerca, a chi un NAP, un Neotraspont come Topics, a chi una pubblica amministrazione come la Regione Piemonte, a chi come il Centronex e altri soggetti che operano abbiano ormai Internet nel loro DNA e che questo non sia soltanto il presente ma sia soprattutto il futuro. L'altro aspetto che vorrei fortemente sottolineare è che così come giustamente ricordava Juan Carlos nella sua introduzione sulla natura estremamente aperta con cui è nato l'Internet Governance Forum, anche la struttura di questi due giorni, di questi tre giorni a partire dall'Unconference che si svolgeranno presso l'Environment Park qui a Torino sono caratterizzati da una forte openness, nel senso che nelle sessioni ci saranno degli interventi che svolgeranno una funzione essenzialmente di stimolo e cioè di messa a fuoco di quelli che sono oggi temi più rilevanti relativi al futuro di Internet, ma ci sarà soprattutto un grande spazio per coloro che vorranno contribuire anche nelle sessioni, quindi non stiamo parlando di un pacchetto chiuso nel quale chi partecipa ascolta, ma stiamo parlando di un grande momento nel quale tutti abbiamo la possibilità di partecipare e di confrontarci per poter mettere sempre meglio a fuoco e soprattutto portare legna per il futuro della Internet che così come anche le ultime vicende nazionali dimostrano, sono sempre di più e di questo dobbiamo essere ben contenti considerate un'infrastruttura per la crescita del Paese, per lo sviluppo del Paese e non più semplicemente una questione riservata ai technologi. Sì, hai fatto bene a ricordarci dov'è questo Internet Governance Forum, che non l'abbiamo ancora detto, quindi all'Environment Park nella zona centro-occidentale della città e sottolineo ancora un po' di altre cose, poi magari ci sono dei commenti o delle domande provenienti da chi ci sta ascoltando. Il carattere multidisciplinare, quindi non è un incontro per specialisti tecnologi, chiaramente c'è una presenza di tecnologi, ma anche c'è una presenza di figure intellettuali molto diverse tra loro, da imprenditori a sociologi a molte altre figure che trovate nel programma. Un altro aspetto è proprio l'apertura, lo ripeto perché ci teniamo a sottolinearlo, questa è un'occasione non soltanto per fare un classico convegno unidirezionale, ma anche per sentire la voce di chi nelle sessioni potrà iscriversi a parlare e fare dei brevi interventi, brevi soltanto per banali motivi di tempo, chiaramente non per cattiva volontà, in maniera tale da contribuire alla discussione. E poi l'ultima osservazione che farei prima di fermarmi per chiedere se ci sono delle osservazioni è che la speranza, direi che a questo punto è qualcosa di più di una speranza, è che alla fine di questi tre giorni si possa fare un tentativo di sintesi di quali sono le principali distanze che l'Italia come imprenditori, come società civile e come governo vorrebbe che fossero rappresentate a Baku circa due settimane dopo. La scelta dei tempi come capite è stata deliberata, l'abbiamo fatto apposta in questo periodo proprio per arrivare a Baku sufficientemente vicini a Baku e non troppo lontani e la presenza governativa ci fa ben sperare che effettivamente la presenza italiana ufficiale a Baku porterà se non tutti almeno alcuni degli spunti che emergeranno in questi tre giorni. Mi rivolgo a questo punto a, come si dice in questi casi, alla regia chiedendo se ci sono domande, indicazioni. Qualcuno propone il tema della gratuità dei dati pubblici, il punto di vista di Regione Piemonte, ma di gran parte della pubblica amministrazione italiana per fortuna è che il dato trattato dalla pubblica amministrazione debba assolutamente essere rilasciato in maniera gratuita, se questo non ha costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione nel momento in cui lo tratta. Per cui il dato pubblico deve essere visto come una fonte energetica rinnovabile, come una miniera, come un giacimento, perché è neutrale, precompetitivo e non si consuma, si viene utilizzato. In questo senso la Regione Piemonte ha assunto altri deliberativi e una legge regionale, scusatemi se parlo di burocrazia sulla Ete che è sempre poco utile e poco comunicativa, però con l'atto più forte che può usare una Regione, una legge regionale, noi abbiamo stabilito che i dati delle regioni Piemonte sono open by default, cioè sono pubblici, gratuiti, salvo eccezioni e non il contrario come accadeva prima. Ed è per quello che sul portale dati.piemonte.it, portale che si sta avuto federando con altri portali nazionali, i dataset che progressivamente noi rilasciamo sono accessibili e scaricabili gratuitamente insieme ai metadati che servono per comprendere cosa ci sia dentro. E ora che una critica che può essere fatta è quella che non tutte le pubbliche amministrazioni stanno operando in questo senso e di conseguenza quantomeno a livello nazionale ci sono situazioni differenti, per cui se qualcuno vuole sviluppare un servizio a livello nazionale potrebbe trovare alcuni dati in alcune regioni, in alcune amministrazioni, in altre che no. Per questo sono molto contento che l'agenda digitale italiana abbia poco su questo tema in maniera forte, per cui potremmo con la logica del riuso e dello scambio di esperienze contribuire a dare omogeneità sul territorio. Altre domande? Insegniamo che c'è una domanda. Cosa si intende per la neutralità della rete? Cosa si intende con la neutralità della rete e che valore politico ha? Allora, chiaramente la risposta sarebbe venite a sentirci alle 16 in Auditorio del Chioto all'Environment Park venerdì pomeriggio, in due parole però il tema della neutralità della rete è un tema effettivamente molto importante e che è all'ordine del giorno ormai da anni, letteralmente, nel senso che si tratta del principio che non è una legge positiva, è un principio che finora è stato non completamente ma ampiamente rispettato, per cui su Internet i flussi sono sostanzialmente tutti uguali, quindi che sia post elettronica, la visita di una pagina web, una telefonata Skype, quei bit, quei pacchetti sono trattati allo stesso modo. Perché è importante? Perché questa neutralità, questa non discriminazione ha permesso a Internet di essere una straordinaria piattaforma di innovazione, in quale senso? Nel senso che le reti di telecomunicazione tradizionali erano molto squisitamente ottimizzate per fare una cosa specifica, trasmettere voce alla rete telefonica, per esempio, però il fatto che fosse così perfettamente ottimizzata per fare una cosa, in realtà significava che era difficile, non ottimizzato, fare cose differenti. Internet non è particolarmente ingegnerizzata per fare niente in particolare e quindi le applicazioni inaspettate che sono emesse nel corso di questi anni, dalla web mail a chat, appunto alle telefonate su Internet, hanno trovato una piattaforma che non favoriva particolarmente ma neanche discriminava e soprattutto la piattaforma dove non c'era nessuno a cui dover chiedere permesso. Quindi quando si parla di neutralità della rete si parla soprattutto di una questione di potere, chi ha il controllo di decidere cosa capita sulla rete dal punto di vista di applicazioni e di offerta di contenuti. Fino a questo momento non devo chiedere permesso, se si andasse verso una situazione dove in maniera più o meno diretta o indiretta devo chiedere permesso, si torna a un mondo telecomunicazioni classico con i suoi alcuni vantaggi ma anche molti svantaggi. Una domanda sfidante. Cosa deve avere una città per definirsi smart? Che si candida a rispondere? Abbiamo un pubblico amministratore. Premesso, è noto che io non amo il termine smart. Infatti non c'è. Infatti non c'è. Per il GF questo termine non è stato usato. Sicuramente una città è intelligente o diversamente stupida. se sfrutta al meglio quelle che sono le potenzialità delle tecnologie di internet. Io tutte le mattine parto da un punto che è casa mia per raggiungere un altro punto che è il luogo dove lavoro. Se fosse disponibile un servizio che mi arriva con un sms che mi dice che forse è meglio che quel giorno io cambi percorso perché ci sono dei lavori stradali, informazioni che sono ovviamente custodite da qualche amministrazione, piuttosto che uno show o una manifestazione, eccetera, evitare di perdere mezz'ora ad attendere che si liberi il traffico. Similmente può accadere per spostare le merci che hanno tempi di conservazione diverse, per cui il fresco diverso dall'abbigliamento, eccetera. le informazioni su dove trovare una bicicletta e dove poterla rilasciare in maniera da ottimizzare il tuo percorso. Sì, no? Mi dicono che c'è già. Cioè, la somma di tante cose che possono migliorare la qualità della vita delle persone rende una città a essere vicina al concetto di smart. Io sono convinto, ma non perché siamo in prossimità dell'IGF, che Internet è una piattaforma sul quale costruire tutti questi servizi. Vorrei che il binomio dati più rete fornissero agli amministratori delle città, ma non solo delle città, ma dei territori, perché non vorrei che poi alla fine fossero smart le città, ma non fossero smart i territori, per cui si venisse a creare una nuova forma di divario tra le persone che abitano nelle grandi città e quelle che abitano nei paesi, nei territori. La somma di queste due strumenti, di queste due risorse, il dato, strumenti, la rete, dove permette agli amministratori di costruire molto velocemente dei territori intelligenti. E poi grazie a Inter, ma adesso c'è qualche altra domanda. Vedete, c'è qualcosa di molto smart e il modo in cui stiamo gestendo questa conferenza stampa? Un territorio smart è un luogo nel quale tutti i dati che la pubblica amministrazione ha a disposizione, ma anche tutti i dati che sono raccolti in quel territorio, vengono utilizzati virtuosamente grazie ad una rete, per poter migliorare complessivamente la qualità di quel territorio, la qualità delle persone, ma non soltanto la qualità delle persone, la qualità della vita delle persone, anche la qualità di ciò che si studia, la qualità di ciò che si produce, la qualità dei servizi che abitualmente noi sono utilizzati, di cui utilizziamo. Diciamo che però questo è un tema, voglio dire, questa è una grande sfida tecnologica se la vediamo chiamata in un altro modo, cioè se la chiamiamo come più appropriatamente, in senso tecnologico viene oggi chiamata la sfida dell'internet delle cose, e cioè il fatto che oggi sempre di più la rete collega miliardi di oggetti, di oggetti intelligenti e che il loro collegamento, l'elaborazione delle informazioni contenute da questi oggetti può restituirci dei risultati, voglio dire, che permettono di fare delle scelte migliori per quel contesto. C'è una sessione dedicata, come dire, a quelle che sono le grandi sfide tecnologiche, quella moderata dal professor Angelo Raffaele Meo, e in quella sede, in quella sessione, secondo me questi temi verranno fuori. Direi che la regia ci fa uno segno che abbiamo raggiunto il nostro limite, io concludo semplicemente dicendo che ormai mancano poche ore all'inizio dell'IGF, dico che sono molto contento di questa esperienza di gioco di squadra che c'è stato tra diversi organismi qua basati a Turino e in Piemonte, quindi alcuni istituzionali come la Regione Piemonte e altri appunto CSPE Topics che sono qua seduti al fianco, è stata un'esperienza molto bella in questi mesi lavorare insieme e speriamo che l'entusiasmo di questi mesi si rifletta anche nell'area che rispire il rete regia F nei prossimi giorni. Grazie.